Alessandro Arcigli, commissario tecnico dell'Italia Paralimpica di Tennis Tavolo, riduce ovviamente da Parigi. Allora, devi sapere che c'è una categoria di giornalisti, soprattutto sportivi, che si appellano continuamente ai numeri. Praticamente i numeri diventano fonte di ispirazione per riflessioni e opinioni. E devo dire la verità, oggi anch'io mi voglio appellare ai numeri. Su Parigi sappiamo tutto, quattro medaglie, due di oro, due di bronzo, anzi vorrei che fossi tu a ricordare i campioni di Parigi. Sì, intanto io partirei dai sette qualificati. La nostra rossa della nazionale è composta da sette atleti che hanno deciso di vivere a tempo pieno di tennis tavolo e per il tennis tavolo paralimpico. Dei sette atleti, tutte e sette si sono qualificati, questo è stato un grandissimo successo, senza passare per scorciatoie, per wildcard o per inviti particolari. Di questi sette, sei sono arrivati ai quarti di finale, quindi a un passo dalla medaglia. Quattro hanno vinto la medaglia, due bronzi e due addirittura hanno vinto il titolo. I due bronzi sono di Federico Falco, in classe 1, uomo in carrozzina, di Carlotta Ragazzini, in classe 3, donna in carrozzina, mentre i due oro, i nostri due campioni paralimpici, sono Giada Rossi, in classe 2 femminile, anche lei donna in carrozzina, e Matteo Parenzanni, in classe 6, uomo in piedi. Quindi abbiamo vinto medaglie con gli uomini in piedi, con le donne in carrozzina, con gli uomini in carrozzina. Questo significa che la nostra scuola, oserei dirla, è un termine che va di moda, si è imposta in un panorama globale, in un panorama dove sono gli asiatici a primeggiare, in un panorama dove il tennis tavolo in Asia è padrone da sempre. Numeri. Intanto i tuoi personali sono da record, perché Parigi rappresenta la quinta paralimpiade, quindi dal 2008 in poi, con un'anticipazione olimpica nel 1996 ad Atlanta, se ricordo bene, solo con la squadra femminile di tennis tavolo. Altri numeri. Quante medaglie hai vinto? Cerchiamo di fare un consuntivo di questo lungo periodo. Allora, intanto appunto i numeri si contano, ma anche si pesano, diciamo ci sono numeri e numeri. Le medaglie paralimpiche hanno un peso particolare, a Pechino ne abbiamo vinte tre, abbiamo vinto due argenti e un bronzo, record all'epoca. 2008. Poi nel 2012 a Londra abbiamo vinto un argento e nel 2016 a Rio con Giada Rossi per la prima volta abbiamo vinto due bronzi in due gare individuali. Nel 2021 a Tokyo una piccola defaianza, solo un bronzo, ma nella gara squadra e quindi ancora una medaglia e poi l'apoteosi adesso a Parigi. Quindi le medaglie paralimpiche sono tante. Ricordavi l'appendice olimpica ad Atlanta, lì era già un record qualificarsi. Per la prima volta nella storia si sono qualificate tre atlete, due per il singolo, una anche per il doppio insieme ad un'altra atleta, quindi tre atlete per due gare e anche quello è stato un record a tuttora imbattuto. Possiamo dire che anche tu hai dei record, perché io non so quante persone possono vantare cinque paralimpiadi o un'olimpiadi nel panorama nazionale. Parlo questa volta dell'aspetto dei tecnici naturalmente. Diciamo che che io sappia un tecnico della nazionale italiana che abbia avuto l'onore di guidare una rappresentativa alle olimpiadi e alle prelimpiadi penso non ci sia mai stato. Io poi addirittura ne ho fatte cinque di Paralimpiade e non da comprimario. Ecco, questo non è il periodo in cui mi viene bene essere modesto. Mi sento veramente realizzato e quindi non voglio, non è mio costume essere ipocrita. Riuscire ad emergere in un panorama, l'ho detto prima, dove normalmente ad emergere sono quelli che vivono dall'altra parte del mondo è motivo di grandissima soddisfazione e orgoglio. E anche, diciamo, con la continuità di continuare a qualificare persone nel suo un successo. E poi tra l'altro questa squadra di Parigi è una squadra relativamente giovane. Sulla Trentina Giada, poi ci sono i 21 anni di Matteo che hanno fatto veramente notizia. Sì, diciamo che nel mondo paralimpico le età si dilatano. I 30 anni di Giada e di Federico Falco va di gran lunga sotto la media perché, diciamo, che normalmente alla freschezza atletica deve essere bilanciata una consapevolezza delle proprie abilità, ecco non voglio parlare dei propri limiti, ma delle proprie abilità, che avviene nel tempo. Normalmente gli incidenti che ti portano a vivere in carrozzina avvengono dai 22 ai 26 anni e quindi a 30 anni si è giovani. Giada e Federico sono purtroppo precoci da questo punto di vista perché entrambi a 15 anni per un tuffo, Giada in piscina, Federico anche lui in piscina, Giada battendo nell'acqua, Federico battendo nel fondo della piscina, vivono in carrozzina ormai da metà della loro vita, da 15 anni, quindi la gioventù della loro prestazione è un unicum. Poi abbiamo Carlotta Ragazzini che ha 22 anni e Matteo Parenzan che ne ha 21, che sono veramente poco più che bambini. Cosa c'è dietro questa squadra? Parlo naturalmente a livello nazionale, anche in prospettiva futura, dei prossimi impegni, non solo le Olimpiadi. Diciamo che con questo gruppo di atleti che nasce nel 2012 con Giada Rossi e Federico Falco, con l'innesto nel 2016 di Matteo Parenzan e Carlotta Ragazzini, che sarebbero i quattro su cui si è realmente puntato, i quattro, fra virgolette, l'abbiamo detto prima, giovani, e innestati in una ossatura di esperienza. Andrea Borgato, Federico Grosara e Michela Brunelli che sono tra i 40 e i 50 anni, questa è stata la scommessa vincente, quella di non azzerare il passato per ricostruire sulle ceneri, ma di innestare giovani su un'ossatura che aveva dato dei risultati. Tenere per buone le qualità, intanto umane e poi tecniche, dei più esperti che potevano fare da chioccia o da guida ai giovani. E diciamo si è rivelata una scelta vincente, non è un caso che i doppi sono sempre composti da un esperto, Michela Brunelli con Giada Rossi, Federico Grosara con Federico Falco, ancora Federico Grosara con Carlotta Ragazzini, dove appunto l'esperienza fa da guida alla gioventù, pur se poi i risultati, almeno in questa occasione, sono arrivati solo ed esclusivamente dai più giovani. Una nuova generazione, una nuova generazione è il sogno di ogni tecnico, voglio essere franco, ho iniziato con questo gruppo e ancora non abbiamo finito. Chiaramente le maggiori attenzioni sono rivolte a questo gruppo di sette atleti, abbiamo già programmato il prossimo quadriennio e se ci sarà qualcuno in grado di dare il suo contributo sarà bene accetto, ma al momento non vedo all'orizzonte qualcuno in grado di emulare i risultati. Noi lo dico sempre, non siamo la Cina, non siamo la Corea, non abbiamo la possibilità di contare su un background di conoscenze e di competenze uniformemente diffuso. Qui dobbiamo fare da soli, è un po' un ristorante conduzione familiare, se mi arriva un matrimonio con 300 invitati io non posso accettarlo, ma se mi arrivano otto persone che vogliono mangiare bene sono in grado di cucinare alla grande e quindi abbiamo scelto di ridurre il numero e di dare il massimo della qualità. Quindi lavoriamo su sette atleti e abbiamo vinto quattro medaglie. È una scelta, è una scelta che la federazione ha condiviso perché queste medaglie siano nel contempo il fine del nostro lavoro, ma anche un mezzo, un mezzo attraverso il quale far appassionare tantissimi giovani, sono tanti i giovani che adesso ci hanno scritto e che si vogliono avvicinare al tennis tavolo, giovani paralimpici ma anche olimpici, giovani con disabilità ma anche senza disabilità che si sono appassionati al tennis tavolo grazie alle gesta dei nostri e delle nostre atlete e questa poi è una scommessa. Poi che questi nuovi atleti possano essere pronti per vincere le medaglie a Los Angeles o a Brisbane mi sembra ancora prematuro, ma che si avvicinino a fare sport è già un grandissimo successo. Una domanda, un chiarimento anche per quello che hai detto poco fa. Ho l'impressione, dammene conferma, che le Olimpiadi e le Paralimpiadi siano su due binari totalmente diversi per quanto riguarda l'età, perché anche dalle telecroniche abbiamo sentito la ragazza a 46 anni aspira a 50 anni a partecipare a Los Angeles. Normalmente questi numeri nei campionati federali, nella Champions League, parliamo di calcio e non solo, sono numeri che nel campo olimpico sono vecchiarelli abbondantemente, direi. Quindi sono due binari diversi. Allora, chiaramente si inizia a praticare sport paralimpico all'età in cui gli sportivi olimpici normalmente già smettono. Noi dobbiamo fare i conti con la platea dei potenziali atleti, potenziali atleti che nascono disabili o diventano disabili. Coloro che diventano disabili diventano disabili a causa di un elemento traumatico, che sia un incidente o una malattia, cosa che non avviene in giovane età, avviene sempre in un'età avanzata. Poi c'è un periodo di stabilizzazione molto importante, perché quella nuova vita, la vita in carrozzina, nell'esempio di Giada, di Federico, di Carlotta, ti porta a prendere consapevolezza con quello che puoi fare e che non puoi fare e con quello che puoi fare adattando ciò che avevi acquisito in tenere età. E quindi c'è un periodo di ambientamento e adattamento. E quindi pensi a sopravvivere. Poi incominci a vivere. Tutto questo ha bisogno di tempo e ogni persona ha bisogno dei suoi tempi. e pensare a ciò che ti fa vivere bene è un ulteriore step. E quindi prima pensi a sopravvivere, poi pensi a vivere, poi pensi a vivere bene. E quando pensi a vivere bene arriva lo sport. Lo sport che è un elemento trainante. Lo è per tutti, ma per le persone con disabilità a maggior ragione. Ti fa realmente vivere pienamente. Io invito a pensare quale altro ambito, oltre che lo sport, fa sentire le persone protagoniste, fa sentire le persone soggetti e non oggetto. E quindi non bisogna avere fretta. Nel contempo, una vita e quindi lo sport, nel nostro caso in carrozzina, presuppone un'acquisizione di esperienze che si acquisistono con il passare del tempo e che non sono legate alla freschezza atletica, alla performance atletica, ma più che altro alla performance mentale, della consapevolezza e della conoscenza del proprio corpo e del riuscire, io amo dire, a mascherare le proprie disabilità estremizzando le proprie abilità e nel contempo a estremizzare le disabilità altrui cercando di non far esplicitare le abilità altrui. Questo è quello che succede in uno sport di confronto come il tennis tavolo. E quindi i nostri atleti devono prendere una conoscenza tattica, oltre che tecnica e infine anche fisica. Tutto ciò appunto ti fa iniziare a fare sport relativamente tardi, ma ti consente di farlo, non dico per sempre, ma veramente a lungo. È chiaro che poi dipende qual è il livello delle tue ambizioni, perché lo abbiamo detto più volte, i nostri atleti si allenano sei ore al giorno per sette giorni alla settimana. Questa è una cosa che puoi fare per un certo periodo di tempo, non puoi fare per sempre. In parte hai già detto tutto, ma vorrei che veramente guardassi la telecamera, perché dall'altro lato ci sono tante persone che ci ascoltano, ci vedono e soprattutto quelle persone che sono in carrozzina e che magari purtroppo hanno avuto un incidente da recente e vivono un momento chiaramente psicologico non adeguato. Ecco, io penso che la Paralimpia delle gesta che abbiamo visto, diciamo a Parigi nel caso specifico, possano dare, un po' l'hai detto tu praticamente, quel qualcosa in più per reagire e per trovare nuove finalità in una vita che comunque ti ha un po' penalizzato a causa di un incidente, a causa di un trauma. Sicuramente, diciamo, il momento post-traumatico che sia a causa di un incidente o a causa di una malattia che ti porta a vivere una vita diversa non è un elemento che deve condizionare oltremodo il resto della nostra esistenza. È facile dirlo, difficile farlo, ancora più difficile accettarlo, però la vita merita di essere vissuta sempre e comunque. Lo sport è indubbiamente un elemento trainante. Grazie allo sport i nostri atleti, quindi le persone con disabilità che diventano atleti paralimpici, vivono appieno e riescono ad avere un obiettivo per cui la vita vale veramente la pena di essere vissuta. Io non invito a praticare il tennis tavolo, ma invito a praticare sport, qualsiasi esso sia, perché lo sport a qualsiasi livello ti costringe a tirare fuori tutto quello che hai. Se io devo correre per dimagrire, oggi fa freddo, domani piove, dopodomani non c'ho voglia, ma se devo correre perché domenica c'ho una gara e allora corro tutti i giorni. L'aspetto agonistico è un mezzo fondamentale. Non per tutti deve essere il fine, ma è un mezzo attraverso il quale tiriamo fuori tutto quello che abbiamo e ci sorprenderemo, vi sorprenderete di vedere qual è il livello di abilità che ancora è rimasto e che non viene tirato fuori perché non è necessario farlo nella vita di tutti i giorni. In Italia quella rivoluzione culturale che sta avvenendo attraverso lo sport è una rivoluzione che non sta ancora avvenendo in tantissimi altri ambiti. Lo sport è trainante, perché fa vedere e fa capire alle persone e non solo alle persone con disabilità, ma alle persone quanto può essere piena la vita anche dopo un trauma, ribadisco, che sia un incidente o che sia una malattia che ci costringe a una vita diversa, non diciamo migliore peggiore, ma sicuramente diversa. Quella dizione è diversamente abile, tutto sommato non è sbagliata. Poco fa parlavi di programmazione, prossimo quadriennio, ovviamente si guarda Los Angeles, nel frattempo ci saranno campionati europei, mondiali, insomma mi pare di capire che si prosegue, parlo di Alessandro Arcigli, su questa strada. Sì, sicuramente l'opera non è terminata. Io ho detto sin dall'inizio che fin quando penserò in prospettiva e non penserò in termini di successi passati, fin quando penserò a programmare e non a ciò che è avvenuto, continuerò. Mi è venuto automatico il giorno stesso in cui i nostri atleti hanno terminato le Paralimpiadi, pensare ad alcuni accorgimenti per migliorare le loro performance e penso a chi non ha vinto la medaglia, a chi ha vinto il bronzo, ma anche a chi ha vinto la medaglia d'oro e dovrà mantenerlo, che non sarà assolutamente semplice. Mi è venuto automatico, quindi ciò significa che ancora gli stimoli per pensare in prospettiva ci sono, gli stimoli per dare qualcosa al movimento paralimpico ci sono e io sicuramente fino a Los Angeles arrivo, poi si vedrà. Vabbè, c'è una lunga carriera alle spalle, però Arcigli tutto sommato è un CT abbastanza giovane, quindi possiamo guardare in prospettiva e forse magari dopo si passa dal campo alla scrivania, può essere? Presidenza federale per esempio? No, 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 sicuramente no perché non vorrei assolutamente, diciamo che la specializzazione in campo tecnico mi sta e mi continuerà a dare soddisfazioni. Probabilmente cercherò, quando poi non ci sarà più l'entusiasmo per fare quello che sto facendo, di insegnare a chi deve insegnare, di occuparmi del dare entusiasmo. Preparare nuovi tecnici in poche parole. Sicuramente e promuovere, promuovere e quindi fare il percorso inverso, cioè ripartire dalla base, ripartire da ciò che serve per cambiare la vita delle persone e la vita delle persone non cambia con una medaglia paralimpica, ma cambia capendo l'importanza della pratica sportiva. La medaglia paralimpica è un mezzo che legittima le nostre parole quando andiamo a raccontare non tanto a una persona con disabilità quanto alle loro famiglie, perché nel momento post-traumatico la persona con disabilità difficilmente è propensa ad ascoltarti, però i familiari sì. Le nostre parole dettate dal cuore, dettate dall'esperienza, assumono una particolare legittimità grazie ai risultati, quindi i risultati diventano fondamentali per ridare quell'entusiasmo e quindi per ripartire dalla base. Questo è quello che mi piacerebbe fare in futuro. In futuro mi piacerebbe coordinare un'opera di reclutamento di tecnici e poi di ridare entusiasmo a chi l'ha perduto. Mi piace concludere chiedendo all'ospite se vuole aggiungere qualcosa che non abbiamo detto, però poi ti devo fare un'ultimissima riflessione. Non abbiamo detto praticamente nulla, abbiamo detto tutto. Siamo partiti da Parigi per raccontare un po' di storia e per pensare un po' al futuro. Quindi partiamo dal presente per legittimare il passato e promuovere il futuro. Questo è quello che mi ispira. Io non voglio sottovalutare quello che è successo, ma lo voglio iscatolare. È successo quello che doveva succedere. Abbiamo lavorato tanto in questi dieci anni, perché il giorno dopo la fantastica medaglia di bronzo conquistata a Rio ho incontrato la famiglia di Giada e Giada per proporre un progetto di centro federale permanente. Questa è stata la vera scommessa. Noi siamo l'unica esperienza in Italia che dà a persone con disabilità, a sette persone in carrozzina, a sette ragazzi e ragazze in carrozzina, di vivere a tempo pieno per lo sport e grazie allo sport. Noi viviamo all'Ignano Sabbia d'Oro, ci alleniamo tutti i giorni, facciamo quello che fanno i nostri colleghi olimpici e siamo l'unica esperienza in Italia. Quando siamo partiti dieci anni fa sembrava un grande punto interrogativo, perché la parte in palestra è sicuramente la parte più facile, lo potete immaginare bene, la gestione della vita che potrebbe creare qualche difficoltà. Dopo dieci anni coloro che hanno creduto in questo sogno si ritrovano una medaglia al petto. Questa è stata la più grande soddisfazione, quella di dare una risposta positiva a chi aveva creduto a scatola chiusa, senza alcuna certezza. Adesso sarà più facile in futuro prospettare un simile percorso, perché i risultati ci sono, ma dieci anni fa nessuno lo poteva immaginare. Allora, intanto io ringrazio Alessandro Arcigli per averci concesso questi minuti, questo consuntivo paralimpico di Parigi e non solo, però devo chiudere con un piccolo gossip. Allora, durante le Olimpiade questa cosa è venuta fuori, durante le Paralimpiade se ne è parlato un po' meno, dico con tutto il rispetto per i cugini francesi, ma sto villaggio olimpico che qualcuno si è lamentato, i letti, i condizionatori, insomma questa Olimpiade e questa Paralimpiade. Sono state le migliori della storia oppure per esempio Arcigli ha qualche ricordo più positivo, non so, di Londra, di Pechino? Sicuramente le Olimpiadi e le Paralimpiadi migliori della storia da questo punto di vista sono state a Londra, non c'è ombra di dubbio, anche perché sono state uno spartiacque, però onestamente io tutte queste difficoltà a Parigi non le ho viste. I letti di cartone c'erano già a Tokyo, erano state un'esperienza collaudata e positiva perché si dorme bene, è chiaro che il nostro amico iraniano alto 2,47 metri avrebbe avuto difficoltà anche nel letto di casa mia. Quindi il letto di cartone si dorme bene e adesso li hanno smaltiti facilmente, pensate a 20.000 letti da piazzare il giorno dopo le Olimpiadi o le Paralimpiadi. La mensa era molto più che dignitosa, c'era tanta varietà e tanta possibilità di mangiare, ovviamente non eravamo lì per mangiare, però il cibo è fondamentale anche per le performance. Il villaggio era piacevole, ben strutturato e ben organizzato, fra l'altro nel cuore di San Denis e quindi adesso già riutilizzato. Non è un villaggio come Pechino, Pechino è stata l'ultima esperienza in cui hanno costruito e distrutto un pezzo della città. Lo avevamo fatto anche noi a Torino del villaggio paralimpico e olimpico di Torino 2006, non c'è traccia. Da Londra 2012 si è pensato a costruire delle parti e riciclare e riutilizzare. A Tokyo addirittura li avevano venduti già nel 2020, hanno dovuto dare un indennizzo a chi aveva comprato le case e è dovuto entrare a casa un anno dopo e questa è una scelta ovviamente vincente. fino al 2008 costruivano e distruggevano, mi sembrava assurdo. Il villaggio era piacevole in una parte della città di Parigi servita. Onestamente non ho trovato dei punti deboli. Poi dalle nostre parti si dice lamentati se vuoi stare bene, probabilmente è un... qualcuno si è lamentato. Ma dico, quando devi trovare punti di debolezza in un'organizzazione elefantesca, non gigantesca, perché parliamo di paralimpiade, avere insieme persone con disabilità da tutto il mondo, con tutte le disabilità, che praticano tutti gli sport. Vi garantisco, non è semplice la gestione, le tipologie di disabilità sono le più svariate. Le persone arrivavano da 180 paesi, quindi con esperienze completamente diverse, e praticavano 24 sport. Quindi oggettivamente è una manifestazione che dire gigante non rende l'idea. Riuscire a portarla al termine in maniera molto più che dignitosa è stato un grande successo per i cugini francesi. Punto debole, senza ombra di dubbio, le cerimonie. Le cerimonie non sono state così belle e così entusiasmanti come in passato, e un po' troppo ambiziose. Quella di costruire uno stadio a Piazza della Concordia, dove ospitare 70.000 persone, era una scommessa ambiziosa. È stato bello gli scienzi di sé con tutta la gente che non aveva pagato il biglietto attorno, ma quelli che avevano pagato il biglietto, eppure caro, le 65.000 persone di Piazza della Concordia, non ci hanno proprio visto. La cerimonia di chiusura, bagnata, ha piovuto tutto il tempo, quindi anche sfortunati, però decisamente, decisamente sottotono. Troppo lunga quella fase dance, mi è sembrata un po' troppo lunga, almeno televisionamente parlando. Ce ne siamo andati, ecco, all'ottavo DJ ce ne siamo andati, quando abbiamo saputo che erano 24, ce ne siamo andati, eravamo tutti zuppi e non valeva assolutamente la pena restare fino alla fine. E, diciamo, è stata... non è stata, ecco, le cerimonie, io le Olimpiche come voi le ho viste in televisione e non mi sono piaciute. La chiusura delle Olimpiadi discreta, l'apertura delle Olimpiadi pessima, mentre quelle delle Paralimpiadi le ho vissute in prima persona, non hanno lasciato il segno. Per quanto riguarda le cerimonie, ricordo ancora con grandissimo piacere l'apertura a Pechino, fantastica, e la chiusura di Londra con un concerto di Coldplay e Rihanna che ancora rimane nella storia.